Abbiamo imparato che la pandemia è un problema globale e che l'unica risposta possibile è il vaccino. Per questo è importante che anche la campagna di vaccinazione sia globale. Assicurare che il vaccino arrivi anche a medici e infermieri che operano in Africa, così come a tutta la popolazione, non è solo un atto di solidarietà, ma una garanzia di sicurezza per tutti, anche per noi. Solidarietà per i più deboli e sicurezza, la nostra sicurezza, camminano e devono camminare insieme. Aiutaci a sostenere la campagna vaccinale in Africa, a portare quel vaccino fino all'ultimo miglio.